Sono le nove eventi e adesso sono costretto a far chiudere la piazza, adesso ci stiamo dando le ordini alla nostra polizia locale, ai carabinieri, chiudiamo la piazza per ogni evenienza in maniera tale da non mettere a rischio di comunità delle persone. Sono le nove eventi e adesso sono costretto a far chiudere la piazza, adesso ci stiamo dando le ordini alla nostra polizia locale, ai carabinieri, chiudiamo la piazza per ogni evenienza in maniera tale da non mettere a rischio di comunità delle persone. Grazie a tutti.